Sì, vorrei rubarla in una cassa di patate, di patate. Il custode paricino che spiava le bambine dell'asilo, ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla, io ancora non ho iniziato il mio lavoro. Mona Lisa, 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 Mona Lisa. La scuola è una gran cosa e soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato. Però peccato che non li puoi vedere e ne toccare. La cultura mi sorride tra le ombre e le tende di velluto ed io sto torturando. la tela con rasoie, con le unghie, con le unghie, oh yeah. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, 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 Mona Lisa. ho ho ho, yeah. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E allora a me ne resto ancora un poco qui a pensare, a pensare Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa Mona Lisa Mona Lisa Mona Lisa